ciao a tutti e benvenuti sul mio canale le anticipazioni di terra amara che andremo a vedere oggi riguardano le puntate che andranno in onda da lunedì 22 a domenica 28 maggio sono episodi ricchi di colpi di scena e di emozioni ed è il secondo video che vi faccio riguardo questo periodo semplicemente perché in questo video ho inserito molti più particolari interessanti e coinvolgente per voi fatemi sapere alla fine quale dei due vi è piaciuto di più ma prima di iniziare lasciatemi un bel like al video e iscrivetevi al canale ricordando che per noi è molto importante ma anche per voi perché così rimarrete sempre aggiornati sulla vostra serie turca preferita riprendono le indagini sull'omicidio di erkumet perché viene accusato demir mentre zulela viene designata come vittima dell'abuso un car invece di fronte a questa situazione prende le eredine in mano e decide di andare a parlare insieme al figlio dal diretto interessato ilmaz e il suo padrino fechili solo uniti possono ovviare al problema così le due famiglie studiano un piano che risulta essere efficace nel frattempo la dottoressa musica è all'oscuro di tutto motivo per cui diventa sospettosa nei confronti di suo marito quando parte per istanbul mojigan decide di chiedere chiarimenti a fechili ma lui la esorta soltanto a rimanere tranquilla senza svelare nulla sermine beice si sono unite per sapere di più sulla questione e mentre sono al circolo a parlarne arriva nazire che le aggredisce dall'altra parte gli yaman convocati in procura depongono le loro testimonianze sono tutti d'accordo su ciò che devono dire in egual modo il dottor sabati invece spronnato da zulella chiede a julie di non scavare oltre nel caso per non far uscire la verità fuori quest'ultima però non intende farlo la caia e lo yaman partono all'improvviso per istanbul per proporre un patto con lo scopo di essere aiutati da emel la sorella di erkumet la quale accetta di testimoniare il falso in loro favore in cambio di 5 milioni di lire grazie a lei o meglio a juliet il caso viene chiuso per non destare altri sospetti arrivare al culmine della risoluzione del problema demir organizza una conferenza stampa dove emel dichiaro che suo fratello erkumet è stato assassinato da persone a cui era debitore con questa conferenza sono tutti più sollevati e un credo emir insieme a il mas e fechili raggiungono un punto d'incontro sulla serenità per le due famiglie zuleila vedendo questa nuova situazione chiede a musigan di fare come i rispettivi ma la dottoressa non ha intenzione di raggiungere una pace con la sua rivale anzi le dice che la vendetta è appena iniziata difatti musigan ha mandato la pellicola demir che aveva ripreso durante l'incontro tra zuleila e ilmaz questo era il riassunto ed ora iniziano le nuove puntate quando lo yama riceve il video non ha la possibilità di visionarlo subito perché il proiettore non funziona tuttavia immagina che si tratti di pallone ma in ogni caso decide di farlo aggiustare dall'altra parte fechili si reca in villa per chiedere in sposa un car mentre zuleila sta cucendo con amore il vestito da sposa per gulten quel vestito che avrebbe tanto voluto indossare lei per il suo matrimonio con ilmaz sanier apprende che suo marito per saldare il debito con atip ha rubato i suoi gioielli invece fechili alla locanda di ferrat scopre che degli uomini che stanno discutendo su come impadronersi della raffineria di ulusi ed escogitano un piano per appropriarsi dell'intera di cucurova senza che qualcuno li intralci questi due uomini che fechili sta ascoltando attentamente di nascosto si stanno anche informando sulle persone più potenti del paese a partire del demir yaman appreso ciò che dovevano sapere alira met si appresta ad avvisare la matriarca e successivamente grazie ai due capostipiti delle famiglie demir e ilmaz stringono un patto d'alleanza perché solo insieme possono ovviare alla questione per far sì che cucurova non diventi di altri padroni nel frattempo la dottoressa musica è sempre più accecata dalla gelosia riguardo alla sua rivale musical sostiene fermamente che zulea e ilmaz si vedano di nascosto gli uomini intenzionati dopo il paese di cucurova e delle rispettive terre d'azienda sono due individui sospetti e ciò porta le due famiglie rivali da sempre ad unirsi per combattere l'incombente danno alla loro amata terra successivamente in una riunione alla camera di commercio diretta da tip interviene fechili appoggiato da ilmaz e demir per spronare tutti gli imprenditori e rifiutare qualsiasi offerta gli venga fatta per vendere le loro proprietà tutti sono d'accordo malgrado a tip che era stato corrotto proprio da quegli uomini intenda ad acquisire cucurova dopo di ciò l'uomo quindi viene minacciato e per timore mette in mezzo fechili facendo sapere ai due loschi individui che lui rappresenta un ostacolo dall'altra parte sanier si reca da tip per fargli sapere che sarà lei ad occuparsi del debito di suo marito e subito dopo esorta Gaffur a scusarsi con il giovane Cetin accusato senza motivo da sanier di aver rubato i suoi gioielli invece la dottoressa Musican in preda alla sua follia scoppia nei confronti di ilmaz e fa una scenata mai vista prima dopo aver spedito il video a Demir in cui attesta degli incontri segreti tra suo marito e Zuleila e dopo che lo Yaman ha finalmente ricevuto il nuovo proiettore quest'ultimo insieme a sua madre lo guardano convinti che siano delle partite di pallone quando però la pellicola parte ciò che vedono è tutt'altro ilmaz e Zuleila si sono incontrati di nascosto nel video appaiono in atteggiamenti ambigui Demir si innerviosisce a tal punto da prendere la pistola e costringere la moglie a salire in auto forzosamente e furiosamente e portarla con sé dove Musican invece vedendo quella situazione che ha creato lei stessa viene soprafatta dai sensi di colpa e rimugina sulle conseguenze della sua ossessione anche la nipote di Unkar che era giunta in villa per discutere di un'altra questione assistita a quanto accaduto e non sapendo nulla indaga su cosa è successo e scopre del video di ilmaz e Zuleila successivamente preoccupati Unkar e Fekeli iniziano a cercare Demir temendo per l'incolumità di Zuleila dall'altra parte la dottoressa Musica rivela a sua zia della pellicola e quest'ultima la rimprovera di essere stata impetuosa e di non aver assolutamente ragionato sulle possibili conseguenze Demir ha portato sua moglie in un luogo nascosto in mezzo al bosco e Zuleila lo implora di crederle perché lei non ha fatto nulla di male anche perché non aveva nessuna intenzione di mettere in cattiva luce la sua reputazione ed il suo orgoglio a questo punto Demir spara dei colpi di pistola il stravolto sale in auto senza Zuleila però in paese nel frattempo Ilmaz svela Cetin di non voler accompagnarlo a chiedere in sposa Gulten dagli Yaman per evitare che sua moglie faccia altre scenate di gelosia e invece Ghafur all'oscuro di quanto è caduto in villa fa delle commissioni per la proposta di matrimonio di Gulten e si dimette dal ristorante in cui stava lavorando dall'altra parte due uomini sconosciuti Turgai e Derol rappresentano un pericolo per Demir che ha acquistato la raffineria Per concludere il video dell'incontro segreto tra Ilmaz e Zuleila che ha creato scompiglio e timore si rivela essere tutt'altro che la prova dell'infedità di Ilmaz e Zuleila quindi da una parte c'è chi teme per la vita di Zuleila tra cui l'accaia che la cerca disperatamente e che cerca di scoprire la verità su quel video cioè Fecheli che parlando con Ilmaz scopre la verità L'evento tra Chetín e Gulten viene rimandato ma Chetín avendo saputo troppo tardi quanto è accaduto è molto ammareggiato mentre il dottor Sabatine cerca di far ragionare Mujigan che ormai è totalmente soprafatta dalla sua gelosia ossessiva Anche questo video è giunto alla fine lasciate un like e commentate fateci sapere cosa ne pensate noi saremo lieti di leggere il vostro pensiero non dimenticate di iscrivervi al canale attivando la campanellina semplicemente per rimanere sempre aggiornati sulla vostra serie turca preferita e vi assicuro che stanno arrivando degli episodi veramente sconvolgenti al prossimo video e vi assicuro che stanno arrivando